salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono già passati circa sei mesi dall'uscita del piccolo gioiellino di casa dji cioè il piccolo mavic mini questo mini drone con caratteristiche uniche perché pesa meno di 250 grammi come mai tutti sapete con caratteristiche però di volo da drone davvero importante quindi dopo sei mesi di utilizzo ho deciso di fare un video appunto per tirare conclusioni di questo mini drone anche perché attualmente è l'unico sul mercato perché nessun produttore dopo sei mesi dall'uscita del mavic mini ha ancora prodotto un drone con caratteristiche simili a questo ma neanche lontanamente simili sono usciti i droni che pesano meno di 250 grammi ma con caratteristiche video e di volo che non c'entrano assolutamente niente con questo quindi rimane ancora l'unico drone secondo me con caratteristiche importanti da acquistare sotto i 250 grammi perché veramente è il numero uno nella sua categoria e soprattutto l'unico secondo me nella sua categoria da acquistare per avere un drone davvero serio ma con le caratteristiche di un drone super piccolo e leggero i vantaggi di un drone super piccolo e leggero già dall'inizio ha dimostrato di essere un drone davvero davvero ben fatto e non parlo dei materiali o meno che sono quasi materiali economici ma in realtà sono solo materiali per ridurre il peso ma le caratteristiche di volo ragazzi sono incredibili e con tutti i vari sviluppi che ha dato dji con i suoi firmware a parte tutte le problematiche ci sono state poi con gli smartphone android all'inizio 64 bit 32 bit tutte queste storie ma a livello proprio di drone quindi oggi parliamo solo del drone in sé davvero unico cioè chi vuole acquistare un drone assolutamente deve acquistare il mavic mini cioè chi non ha mai avuto un drone e vuole iniziare e secondo me e non vuole stancarsi dopo due mesi deve acquistare un mavic mini perché è l'unico drone che vi dà l'idea se vi piace o meno il mondo dei droni perché con gli altri droni poi sicuramente vi stancate e li cambiate con questo già partito con una base che potete trascinarvi per un periodo lunghissimo di tempo perché vi permette di fare video di qualità di volare in sicurezza di volare anche in condizioni abbastanza estreme e in più con una durata della batteria secondo me spettacolare e poi ragazzi come ormai tutti sapete dal primo di luglio cioè quindi qualche giorno fa è entrato in vigore il nuovo regolamento ENAC anche se non è quello europeo che arriverà appunto con l'inizio di gennaio che per chi non ha un drone sotto i 250 grammi ha bisogno di questo mentre lui non ha bisogno di questo con lui non c'è bisogno neanche del QR code perlomeno fino a gennaio quindi l'unica cosa di cui ha bisogno il mavic mini è questa un'assicurazione che vi permette di tutelarvi e tutelare gli altri quindi assicurazione fatta appositamente quella che esistono per i droni o come ce l'ho io un'assicurazione di capofamiglia che comunque vi copre per i danni causati da un drone quindi un ulteriore motivo per acquistare questo piccolo drone perché comunque avete le caratteristiche non dico uguali a queste perché non sono uguali ma dal punto di vista della qualità del volo e di quello che potete ottenere è comunque tanta tanta roba ragazzi non vi stancate sicuramente e secondo me è comunque un drone da avere anche per chi ha già un drone importante perché comunque vi dà la possibilità di volare in ambienti diversi rispetto a droni più grossi ed importanti e soprattutto con una trasportabilità ragazzi incredibile se con la sua borsettina ragazzi vi portate il drone tre batterie il radiocomando tutto in una tracollina e ve lo portate praticamente dappertutto senza impegno di peso di ingombro cioè incredibile e poi con tutti i vari aggiornamenti che ha introdotto DJI in questi sei mesi secondo me l'ha fatto crescere davvero davvero tanto soprattutto la fotocamera che adesso avendo la possibilità di essere regolata in maniera manuale nell'applicazione di DJI Fly è possibile montare filtri ND e sfruttarli a pieno prima ovviamente si potevano montare ma non li si sfruttava realmente a pieno davano un qualcosina in più ma non quello che realmente danno adesso che si ha la possibilità di regolare in maniera manuale appunto i parametri della fotocamera quindi ragazzi è un drone che consiglio non tanto di più perché tanta tanta roba dopo questi sei mesi andate a cercare i miei video nel mio canale dove l'ho portato in varie situazioni e ragazzi rimarrete di stucco perché comunque qualità video pazzesca resistenza al vento cioè è incredibile è incredibile come appunto questo mini drone riesca ad avere caratteristiche di volo simili ai suoi fratelli maggiore appunto nella resistenza al vento nella stabilità nella precisione del return to home cioè ragazzi è un drone incredibile crescerà ancora perché DJI sicuramente rilascerà nuovi aggiornamenti quindi ragazzi se volete acquistare un drone siete all'inizio secondo me scartate tutto e prendete un Mavic Mini ovviamente costa di più di altri droni che trovate economici su Amazon su Banggood cioè però non c'entra assolutamente niente se non magari per il peso per il resto non c'entra assolutamente niente qua avete un drone vero 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 avete un prodotto DJI e soprattutto avete un drone ragazzi piccolo ma con le contropalle ve lo garantisco e per chi invece ha già un drone importante tipo non so un Mavic Pro un Outelivo un Phantom questi droni che hanno caratteristiche e peso ingombro diciamo maggiori comunque secondo me accoppiarci il Mavic Mini non è niente male ovviamente se uno ha la possibilità di farlo però non sono soldi buttati secondo me in accoppiata perché comunque hanno utilizzi in ambienti secondo me diversi quindi ragazzi questo è solo un video perché dopo sei mesi dall'uscita del Mavic Mini attualmente nessun concorrente è ancora stato in grado di creare niente di simile ma neanche lontanamente simile si sperava in Parrot che invece ha diciamo presentato un drone super spettacolare ma un drone che non è ad uso consumer un drone praticamente solo per lavoro quindi per uso professionale e solo in certi ambiti di lavoro anche perché con un costo spropositato quindi anche Parrot per adesso niente gli altri diciamo competitor cinesi per adesso niente quindi rimane l'unico drone con caratteristiche importanti tolti tutti gli altri che secondo me non sono suoi rivali ma a parte per il peso che può volare e avere caratteristiche importanti e volare solo con l'assicurazione non ha bisogno di nient'altro quindi ragazzi chi vuole acquistare un drone ve lo garantisco io ne ho provati di tutti i tipi di tutti i colori di tutte le forme ma sotto i 250 grammi ragazzi scartate tutto prendete questo costa di più ma un drone che veramente non c'entra niente con tutti gli altri non vi fa passare la voglia di volare soprattutto perché fa quasi quello che fanno i suoi fratelli maggiori e in più speriamo che dji rilasci presto le sdk che avrebbe già dovuto rilasciare ad aprile per il mavic mini quindi da la possibilità agli altri diciamo creatori di software di droni di creare il loro software e quindi di implementare delle funzioni che attualmente la dji fly non ha e vi sto parlando appunto di litki che una volta che dji rilascerà la sdk per questo mini drone sicuramente nella sua app ci darà un qualcosina in più soprattutto l'active track e poi comunque è un'app che ha il suo perché anche per altre cose ma soprattutto nel caso del mavic mini probabilmente sarà l'active track quindi ragazzi questo era solo un video per chi ha ancora dei dubbi se non sa cosa acquistare o se acquistare il mavic mini o aspettare magari per acquistare un mavic più grosso cioè no ragazzi se siete all'inizio mavic mini tutta la vita secondo me un drone incredibile per le sue caratteristiche e diciamo il suo poco impegno burocratico che in questo momento vi comporta quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato sul canale le mie considerazioni e diciamo il mio consiglio sul fatto di acquistare il piccolo mavic mini vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale telegram offerte se non avete ancora fatto e se vi va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un buon recensione, un test tutorial, una novità ciao